Stefano Guzzi da assessore regionale ha candidato da Ramanforte alla squadra di Forza Italia in questa chiamata alle urne del 25 settembre che vede Forza Italia la vede candidata nel listino proporzionale alla Camera al secondo posto dietro alla capolista Valentina Vezzali squadra completata anche da Jessica Marcozzi per il Senato e sempre al proporzionale e da Francesco Battistoni per l'uninominale a ferma Escoli Piceno tanti nomi uniti diciamo da questo slogan costruttori di futuro che mi sembra pertinente al presente incerto soprattutto anche a livello di governi instabili guardate uno dei problemi più grandi che ha vissuto l'Italia negli ultimi anni ma anche diversi anni addietro è quella della instabilità continua nei nostri governi governi che durano un anno, un anno e mezzo, otto mesi non riescono non solo ad affrontare quindi e risolvere i problemi ma detto brutalmente non riescono neanche a essere giudicati dai cittadini perché si ha difficoltà a giudicare l'operato di un governo se non è durato almeno una legislatura. Conseguentemente questa volta credo che ci siano tutte le condizioni perché da queste elezioni emerga una maggioranza chiara, netta, una maggioranza di cui farà parte, fa parte anche Forza Italia e io credo che in un governo futuro dove tutto il centrodestra unito ha dato in questi mesi e in queste settimane un'idea proprio di grande serietà presentandosi unito senza litigi, senza contrapposizioni, con un programma comune ecco questo sarà un governo quindi autorevole e serio. Ripeto la presenza all'interno di questo governo di Forza Italia sarà fondamentale perché comunque sia Forza Italia è da sempre una forza moderata, europeista che dialoga, che non ama troppo urlare nelle piazze ma ama affrontare i problemi quindi all'interno del nuovo governo al di là del consenso che avranno i singoli partiti Forza Italia avrà un posto importante, avrà i suoi ministri all'interno del nuovo governo io penso ad esempio a un Tajani che nei rapporti che ho in Europa sarà preziosissimo in futuro per il nostro paese questo è il senso di questa mia candidatura, quindi dare forza all'area moderata del futuro governo della futura maggioranza e quindi quando parlo di area moderata parlo di Forza Italia che è da sempre il partito moderato di questa nazione, di questo paese Tra il suo assessorato e la sua candidatura possiamo anche mettere come filo conduttore alcune deleghe come quelle al lavoro e all'ambiente che credo siano centrali anche poi in quella che sarà un'azione di governo I temi che il futuro governo dovrà affrontare sono temi ai noi difficilissimi, molto attuali uno è quello della crisi economica dovuto anche all'aumento dei prezzi e dell'energia la mancanza di materie prime, che quindi ci sarà un serio raffronto e confronto sui temi del lavoro della formazione, delle potenziali eventuali crisi aziendali quando se si porranno e questo è proprio quello che io sto facendo in Regione Marche da due anni a questa parte ho affrontato crisi importanti come quella della Caterpilla degli Esi o di Elica di Fabriano l'abbiamo superata, affrontata in maniera positiva garantendo l'occupazione, garantendo le attività ecco questo dovrà essere un'esperienza che se dovesse vedermi ricoprire un ruolo a livello nazionale può arricchire anche quel bagaglio di esigenze che ci saranno in prospettiva e ugualmente per quel che va ai temi ambientali, qui si parla tanto di ambiente, di tutela ambientale di nuove attività legate ad energie rinnovabili che non inquinino, poi ai noi purtroppo vediamo che a causa della guerra in Ucraina, a causa della situazione più a livello mondiale generale stiamo quasi per essere costretti a riattivare le centrali a carbone, quindi siamo proprio una contraddizione detto proprio brutale, io credo che occorre superare alcuni stereotipi alcune paure e andare verso fonti di energia che siano poco inquinanti e che siano più all'altezza dei tempi, quindi non parlo solo di gas ma parlo anche di ripristino potenziale futuro di nucleare così come fanno in tutte le nazioni d'Europa, come fanno in Francia, come fanno in Germania, come fanno in Inghilterra, come fanno in Svezia, come fanno nei paesi più evoluti, cioè è un'energia sicura, pulita, ovviamente bisogna essere all'avanguardia nella visione, nell'identificarsi nel futuro, quindi sono tutte scelte importanti che comunque un nuovo governo dovrà fare, occorre coraggio, occorre forza, occorre unità, occorre quindi un forte consenso.